Sveglia tutti per favore che adesso giriamo, eh! Medical Dimension 39, 1 prima! E... azione! Io non ho fatto parte, io... Dove sarai a camminare, Prio? Guarda qui all'aspirato, Prio! Sento, sento qui! Faccio un po' qua! Prio, faccio vedere un numero di voi! Maestro, adesso che faccio? Ne prendo un'altra o stop? Eh, no, stop! Maurizio, ti avevo chiesto un'arancia sana!